Allora, mister Sottilla arriva a questo derby con la Casertana, in che condizioni ci arriva la Paganese? Una Paganese che forse è rammaricata per i troppi punti persi e che deve necessariamente recuperare terreno perduto? Ma sì, il calcio è anche questo, ci sono dei periodi dove magari erano più giusti dei pareggi e portate a casa delle vittorie o viceversa, come questo, nel senso che secondo me queste due partite noi meritavamo, la squadra meritava assolutamente di portare a casa sei punti, ne ha portati a casa due, tre con il pareggio di Matera, secondo me però il pareggio di Matera è giusto, abbastanza giusto Ci arriva bene, la Paganese ci arriva bene, arrabbiati per questi punti non raccolti pienamente, ci arriva motivata, ci arriva con grandi stimoli con rabbia agonistica per sfoderare una grande prestazione a Caserta contro una squadra costruita per i vertici come sempre dico la stessa cosa, grande rispetto, però noi i ragazzi li ho visti motivati, li ho visti concentrati ripeto, con la rabbia giusta per andare a fare una grande partita Anche perché la Casertana ha cinque squalificati, diversi infortunati, hanno giocato in Coppa in settimana, insomma anche loro non arrivano da grandi risultati, se ci arriva bene la Paganese non ci arriva granché invece la Casertana Ma sì, queste sono considerazioni che si fanno, sicuramente la Casertana è una rosa molto ampia per sostituire queste defezioni Sicuramente sono giocatori importanti, se al di là dei squalificati sicuramente non ci saranno qualche problema muscolare, ho detto di qualche giocatore, però noi dobbiamo pensare assolutamente alla nostra prestazione non guardare queste cose, andare avanti con un cararmato come stiamo facendo abbiamo valutato, abbiamo analizzato anche il perché, non abbiamo raccolto pienamente i punti perché comunque qualche errore è stato fatto, come sempre lavoro sul video, lavoro sulla testa, sulla psicologia, sulla serenità e sul lavoro quotidiano nel campo, quindi ripeto, Caserta è una tappa importante sono quelle partite che si caricano da sé, non c'è bisogno di caricare tanto i ragazzi perché comunque andiamo in un ambiente caldo contro una squadra abbrasonata quindi io direi che con l'ultimo momento di oggi abbiamo fatto un'ottima settimana Se l'indicazione della vigilia dovesse essere rispettata, si andrebbe verso una sfida a specchio con entrambe le squadre, con il 4-3-3, in questo caso dove si può decidere la gara? La Caserta ha quasi sempre impiegato uno schieramento con 4-3-3 io anche, ma le contrapposizioni tattiche poi si verificano sul campo sicuramente ci sono secondo me in questa contrapposizione delle zone di campo dove se ci muoviamo bene si può fare delle belle cose